Siamo con il capitano delle coccinelle, Giulia Agliello. Volevo sapere cosa ha visto di positivo di questa partita rispetto a quelle precedenti e perché sta faticando ad arrivare alla prima vittoria in campionato? Guarda, rispetto a quelle precedenti c'è stata una grande reazione di gruppo che non mi aspettavo e devo dire che nonostante il risultato siamo abbastanza soddisfatte. Abbiamo sfiorato pure la vittoria, quindi un po' sfortunate, però stiamo lavorando e andrà sempre meglio raggiungere i miei tre punti. Siamo qui con Buccella, giocatrice della Virago. Volevamo sapere cosa è successo nel secondo tempo e dove è stato buttato il vantaggio iniziale? Sicuramente siamo calate mentalmente, io credo. Per quello che ho avuto la percezione è stato più mentale che fisico. Dobbiamo imparare a non calare perché ci capita spesso, è già la terza partita che ci succede. Abbiamo poi preso un 2 contro 1 e hanno segnato loro e non siamo più riusciti a recuperarlo.